benvenuti in questa guida top 7 racchette padel di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo wilson racchetta racchetta da padel wilson ultra elite materiale composito in fibra di carbonio per una sensazione di leggerezza e di potenza infinity edge vediamo la nostra valutazione un'eccezionale qualità generale offerta imperdibile grazie allo sconto con caratteristiche davvero soddisfacenti in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 79 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo babolat technical babolat technical veron 2022 ecco cosa pensiamo 5 stelle nella qualità generale un'offerta da cogliere al volo 5 stelle per le caratteristiche ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 78 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo babolat counter black green babolat counter vertu o padel racket one sit vediamo la nostra valutazione una qualità generale eccezionale 5 stelle per la promo sconto con caratteristiche quasi al top assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare wilson racchetta realizzata in materiale di qualit robusta e durevole design ergonomico presenta una struttura che riduce le vibrazioni progettata per vediamo il nostro parere la qualità generale raggiunge 3 stelle un'offerta conveniente un'estrema quantità di funzioni assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 87 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo racchetta da peso da 360 a 380 grammi nucleo gomma eva morbida dura maggiore controllo forma rotonda struttura tubolare vediamo la nostra opinione 5 stelle nella qualità generale 3 stelle nell'offerta con una funzionalità eccelsa con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo nox la nuova e spettacolare nox ultimate treiello condivide uno degli stampi di maggior successo del marchio con telaio in carbonio e superficie ecco la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale estremamente convincente l'offerta 3 stelle per le caratteristiche straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 92 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica ed grafin racchetta da peddo led da forma di goccia con un ampio punto dolce una grande uscita di palla molto comodo e maneggevole costruito con la ecco il nostro parere 5 stelle nella qualità generale un'offerta da cogliere al volo con una funzionalità eccelsa 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 92 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti